Hai mai fatto un sogno tanto realistico da sembrarti vero? E se da un sogno così non ti dovessi più svegliare, come potresti distinguere il mondo dei sogni da quello della realtà? Benvenuto nel mondo vero. Oh, vediamo che altra abilità possiamo sbloccare. Combo 4 completato, vabbè. Visione in una feccia. Dio, c'è un errore nel sistema. L'audio e video sono andati. Credo che sia solo una feccia. ooooola Ah, dobbiamo uccidere il fantasma E vabbè, ma tutto rompio Oh E' un pochettino che la vita si rianimi diciamo brava e adesso facciamo il culo anche a questo e se si si guardiamo tutte queste spade guardiamo Se volete fare un'altra cosa, prendiamoci. Sì Non puoi tirarti fuori in tempo Abilità sbloccata Abilità sbloccata Con tutti questi che non vogliono scappare Abilità Scusa mio Ora è tutto sotto controllo Morpheus vuole che tu esca Come vedi questo programma prevede l'allenamento con avversari multipli Cypher non credeva che riuscissi a superare il corridoio infuocato Bravo Ora concentrati Ecco lui Scusa 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 c'è qualcun altro oh uno è morto e quest'altro pure oh uno contro uno e questo è il terzo penso che sia finito eccellente duello Nio se rimani concentrato niente potrà ostacolare il tuo cammino ora caricherò la sfida a tempo oh sì la corsa contro Morpheus e questo è il terzo Ottieni 5.000 punti e andrò a 5 minuti per vincere. La regola del programma sono semplici, Neo. Sconfiggi un nemico, guadagni appunti, raggiungi un obiettivo entro il tempo stabilito e vincerai. Più la tua tecnica è avanzata, più punti ti assegnerò per ogni nemico sconfitto. Oh, insieme, bai! E abbiamo già 1.000 punti. Ti assegnerò punti bonus per ogni ondata sconfitta. Pensi di poter battere il record? Vai, in 3. Sto aggiungendo un nuovo tipo di nemico. È potenziato con un attacco a distanza. Sei arrivato fino al quarto round. Ecco, vedi se riesci a fare buon uso di questo bastone. Vabbè, vado subito. No. Incredibile. Un'altra ondata e batterai il record di mortello. Hai fatto il record. Morpheus, vieni a vedere. Corso. Non. 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 Passi. Non. 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 Ci si va! Incredibile! Sei un dio di me! C'è 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 un dio di me!